Turino tornerà a colorarsi di rosa domenica 3 marzo con Just the Human IEM, la corsa camminata di 5 km non competitiva che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro organizzata dal Centro Universitario Sportivo Torinese in collaborazione con l'Università degli Sudi di Torino e il Politecnico di Torino e con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte. Un sostegno concreto, un sostegno economico per una manifestazione che si sta sempre allargando a macchia d'olio per dare supporto a chi fa la ricerca tutti i giorni per cercare di sconfiggere il cancro. Servono sempre più soldi per dare sostegno e aumentare la platea di persone che possano curarsi veramente al cancro. Quest'anno la partenza sarà da Piazza Vittorio Veneto e l'arrivo in Piazza San Carlo dove verrà allestito il villaggio della prevenzione del benessere nelle giornate dell'1, 2 e 3 marzo con stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit oltre a convegni e webinar divulgativi. Sono veramente contento perché come mio primo incarico ebbe quello di in qualche modo monitorare da vice-rettore questa attività adesso lo vedo con un ruolo diverso, naturalmente la centralità qui è ricerca, sport e il ruolo delle donne è sempre più centrale in quelli che sono tutti i temi di sviluppo della nostra società. Sarà possibile partecipare all'evento sia in presenza, con partenza alle 16 da Piazza Vittorio Veneto a Torino oppure in modalità virtual, scegliendo in autonomia il luogo di svolgimento, il proprio percorso di 5 km e condividendo l'esperienza sui social. Ogni partecipante all'evento potrà scegliere la modalità di iscrizione, in presenza, virtual, singola o in gruppo sulla pagina dedicata del sito di Just Women I Am e potrà ricevere kit di iscrizione e welcome bag direttamente a casa oppure optare per l'acquisto del kit di iscrizione presso i punti di ritiro diffusi sul territorio torinese. Se noi preveniamo, se noi pensiamo un po' di più a noi stessi, evidentemente troveremo anche delle energie per poter dedicare al lavoro, alla famiglia, alle amicizie e questo mi piace molto, Just Women I Am è questo. Grazie a tutti.